Un morto in un incidente stradale nella mattinata in Viale de Tigli a San Cataldo per cause in corso d'accertamento un fabbro, Francesco Lomonaco, 25 anni, ha perso il controllo di una motocicletta finendo contro un albero. L'impatto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica del sinistro e i soccorsi del 118. Il messaggio di cordoglio del sindaco Giampiero Modaffari. Sì, questa mattina abbiamo ascoltato qualcosa che non volevamo mai ascoltare, una tragedia che ha colpito una famiglia sangrataldese con la morte del proprio figlio. Ovviamente è una notizia che ci rattrista enormemente e come giunta abbiamo pensato di proclamare il lutto cittadino. Invitiamo i nostri concittadini domani, visto che c'è anche la partita dell'Italia, ad evitare di esultare nel momento in cui eventualmente la nazione dovesse vingere. E noi come io personalmente, come giunta, ci sentiamo di dire ai nostri giovani di cercare di mantenere un atteggiamento corretto, evitare di sentirsi immortali e invigibili. Purtroppo la vita è unica. No, purtroppo, la vita è unica. La vita va preservata e va preservata mantenendo atteggiamenti corretti, evitando delle azioni che possono portare a quello che oggi è successo. Speriamo che queste azioni non possano succedere come giunta. Pensiamo di porre il rimedio anche ad attività di questo genere, mettendo in atto in questa strada, che è una strada molto ampia e che si presta anche a correre con grande velocità, a mettere in atto dei dissuasori di velocità che possono preservare e prevenire nel futuro anche di queste altre tragedie.